Tutti hanno un sogno. C'è chi sogna di diventare un musicista, chi scienziato o chi di volare. Ed è proprio qui, tra le nuvole, in un aereo, dove Luca incontrerà il suo futuro amico. Egli racconterà a Luca una storia. La storia di uno scienziato che salvò il mondo, Albert Bruce Sabine. Albert è diventato un nostro eroe, salvando molte persone dalla morte. Attraverso due storie intrecciate, con due sogni differenti, il libro insegna a rincorrere sempre i propri sogni. Ma come diceva il nonno di Luca, essi possono essere realizzati solo con determinazione e duro lavoro. Tra queste pagine abbiamo trovato insegnamenti importanti, che resteranno per sempre nei nostri cuori. Quindi, questa avventura ci ha coinvolto molto, trasportandoci nella vita di Luca e dello scienziato Albert, che... Clemente.com Clemente.com Marte.com Yes. Está. I'm령.com Zrincolato.com Grazie a tutti